E' ancora tanta la posta che ogni giorno viene consegnata. In un anno si stimano 3 miliardi di buste. Questa è la bolletta del gas, questo è il telefono, luce, come vede in un giorno arrivano le bollette. E alcuni utenti pagano cara la comodità di avere la bolletta cartacea nella cassetta della posta, tanto da dover sborsare tra 1 e 2 euro in più per utenza. Un comportamento che l'autorità dell'energia ha reputato poco chiaro, al punto di aprire un'istruttoria su alcune compagnie di luce e gas, perché far pagare il costo della spedizione lede il diritto del cliente a una corretta fatturazione. Qui ne sono arrivate due, qui una. Se si ipotizza in media un sovrapprezzo di circa 2 euro, moltiplicato per le 18 fatture che ogni famiglia riceve in un anno, in totale sono 36 euro di costi in più. In pratica il prezzo di una pizza fuori o 12 kg di pasta nel carrello. E poi attenzione ai contratti sottoscritti via web, perché se si modificano le modalità di pagamento scegliendo il bollettino postale rispetto alla debito diretto sul conto o se dopo aver scelto la fattura online si opta per la cartacea, il costo di luce e gas può diventare più alto. C'è tanto da pagare.